Ancora studenti ed insegnanti contagiati a preoccupare nuovamente la situazione in Casentino. Sono infatti arrivati i primi esiti dei 150 tamponi effettuati nelle ultime ore a studenti e personale scolastico dei plessi della Vallata. Alla scuola media di soci sono stati così riscontrati altri 10 positivi che vanno a sommarsi ai 18 dei giorni scorsi, per un totale di 28 contagiati. La scuola al momento ha sospeso le lezioni in presenza proprio a seguito dell'emergenza sanitaria in atto. È stato inoltre riscontrato un altro caso alle elementari di Bibiena. La classe, si tratta di una quinta, è stata posta in quarantena. Ovviamente si tratta di una situazione in continua evoluzione. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti in base dall'esito dei tamponi ancora in fase di esame.